Salve amici del segreto, in questo video volevo parlarvi di un aspetto molto importante dei libri di Joseph Murphy che riguarda le credenze e come esse riescano a creare la nostra realtà. Facendo riferimento a molti dei suoi libri, riassunti precedentemente su questo canale, volevo offrirvi una prospettiva più chiara a riguardo, sperando che vi possa essere utile. Cominciamo subito con il riassunto. Analisi attenta della propria identità Le credenze riescono a cambiare qualsiasi realtà. Le credenze sono lo strumento più potente di cui disponiamo perché controllano i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre reazioni e di conseguenza controllano anche la direzione della nostra vita. La vostra realtà è lo specchio delle vostre credenze. Quello che avete, fate o vedete oggi si basa sulle vostre credenze passate che vi hanno portato su questo punto. Il successo non necessariamente include lavoro e sforzi perché le opportunità, idee o persone che attirate sono fonti delle vostre credenze, delle vibrazioni in cui vi trovate mentre desiderate qualcosa. Se ci fate caso, appena pensiamo a qualcosa, il cervello comincia a produrre idee. Se ad esempio volete comprare qualcosa ma non avete soldi, il cervello vi porta immediatamente a pensare alle persone a cui potreste chiedere soldi come ad esempio famiglia, amici, eccetera, ma anche a chi non dovreste chiedere perché non vi presterebbe denaro. Lo stesso vale se volete comprare una casa. Il cervello vi presenterà idee riguardo a come poter guadagnare di più, quali esperti contattare, eccetera. Ma questo solo se pensate basandovi sul desiderio di avere e non cadendo nel pessimismo. Come ad esempio pensando che questo desiderio sia assurdo, che non lo realizzerete mai e che dovreste essere realisti e pensare a come arrivare a fine mese. Questo tipo di credenze creano immediatamente negatività e danneggiano le vostre vibrazioni. I pensieri sono energia. In base all'energia che disponiamo, noi ci troviamo su un determinato livello di frequenze. Per attirare il nostro desiderio dovremo trovarci su quel livello di frequenze, sentirle nostre, credere che sia possibile e addirittura immaginarlo come realizzato, come se fosse già nostro. In questo modo la nostra coscienza, ossia quella parte del nostro essere che pensa in modo cosciente, che noi possiamo controllare, finisce per influenzare il subconscio, la nostra parte inconscia che non possiamo controllare, che lavora 24 ore su 24 per realizzare le credenze della nostra coscienza che le vengono trasmesse direttamente senza filtri. Quindi se noi vogliamo controllare il subconscio, dobbiamo controllare la nostra coscienza, filtrare quello a cui crediamo, pensiamo e percepiamo, perché altrimenti questo processo sarà svolto in modo automatico, senza il nostro controllo, e può andare in direzioni che noi non vorremmo che andasse. Il subconscio quindi lavora con l'intelligenza infinita per realizzare il nostro desiderio, ossia quello che noi abbiamo nella nostra coscienza. Come? Non ha importanza. Questo si relaziona appunto con la nostra fede. Se abbiamo fede che qualcosa esista o sia vera, non abbiamo bisogno di vederla, perché non metteremmo mai in discussione la nostra fede. Ecco, proprio questo è fondamentale per realizzare grandi desideri. Non dovete mai mettere in discussione il fatto che il desiderio sia già stato realizzato. In questo modo riuscirete a vederlo materializzato. Dio parla a noi attraverso i nostri desideri fondamentali. Tutti noi abbiamo desideri e vogliamo creare qualcosa nella nostra vita. Vogliamo servire, vogliamo avere. E così cominciamo con l'io. La maggior parte di noi è totalmente inconsapevole dell'io che ci sta veramente a cuore. Completate la frase io sono basandovi sui vostri desideri. Magari dicendo io sono un imprenditore, un artista, un milionario. Questo rappresenta l'identità con cui vi identificate. Non ha importanza se è vero oppure no. Questo vi aiuterà comunque a cambiare direzione nella vostra vita. Per cambiare destinazione ci potrà volere del tempo, ma tutto dipende dal grado di fede che voi avete in questa identità. Dobbiamo basare la nostra identità su quello che vorremmo raggiungere in futuro e non su quello che abbiamo oggi. Se volete essere degli imprenditori e adesso siete poveri, cercate di credere nell'identità che avreste se aveste raggiunto il vostro obiettivo. Non vi concentrate sul punto in cui vi trovate oggi. Dite io sono già un imprenditore. Non abbiamo mai guardato bene l'io, quindi non conosciamo questo io, perché l'io non ha né faccia e né forma, ma si modella nella struttura con tutto ciò a cui acconsentiamo, tutto ciò che crediamo. E pochi di noi sanno veramente cosa credono. Ma pochi di noi sanno veramente cosa credono. Quindi la mancanza di informazione in questo caso finisce per danneggiare il nostro futuro. Perché non sapendo la verità tendiamo a credere a quello che la maggior parte delle persone crede. E tendiamo di conseguenza ad ottenere i loro stessi risultati. Non abbiamo idea delle innumerevoli superstizioni e pregiudizi che vanno a plasmare questo io interiore in una forma che viene poi proiettata nel nostro ambiente e come condizioni di vita. E ora, come si fa a cambiare l'io? Prima di tutto dobbiamo scoprire l'io e lo possiamo fare attraverso un'osservazione acritica di sé. Dobbiamo partire dall'eliminazione dei pregiudizi, evitando di sentirci in colpa per quello che siamo. Dobbiamo imparare ad accettare e ad amare noi stessi perché solo così riusciremo a nutrire la nostra autostima. Facendo questa esaminazione della nostra identità, ci si rivelerà un livello di coscienza del sé che potrebbe sconvolgerci. Non ci piacerà, ma non dobbiamo vergognarci, dobbiamo cercare di prenderla come un punto di partenza verso la nostra nuova destinazione. Così potremmo imparare a conoscere un livello superiore di umiltà che sarà anche la base dei nostri futuri successi. Non dobbiamo basarci su quello che le persone a cui teniamo ci dicono. Dobbiamo imparare ad essere noi stessi i critici più onesti della nostra personalità. Descrivi un altro, descrivi la società, descrivi qualsiasi cosa e la tua descrizione della cosa che osservi rivela a chi conosce questa legge l'essere che sei veramente. Quando descriviamo qualcosa, stiamo in realtà descrivendo noi stessi, perché la realtà, quello che c'è al di fuori del nostro essere, rappresenta lo specchio di quello che c'è dentro di noi. Se cambiamo dentro di noi, se riusciamo a riprogrammare il nostro subconscio, tutto al di fuori cambierà. Quando noi evolviamo, diventiamo più armoniosi e scopriamo il sé superiore che c'è dentro di noi, riusciamo a cambiare l'intera realtà. L'essere segreto, che è l'insieme di tutte le mie credenze, di tutte le cose a cui acconsento, che formano un modello di struttura, attira a sé le cose in armonia con sé. Ricordatevi, i messaggi più importanti che riceviamo dalle opere di Murphy riguardano proprio l'importanza delle credenze. Le credenze creano la nostra realtà e noi diventiamo quello che crediamo di poter diventare. Cambiare approccio mentale Tieni la tua mente cosciente e occupata con buone aspettative. Queste aspettative si dovrebbero basare sui vostri obiettivi, piani, visioni di vita e tutto quello che sperate di poter ottenere in futuro. Tutti noi abbiamo le nostre paure interiori, abbiamo credenze, opinioni. Questi presupposti interiori regolano e governano la nostra vita. Un suggerimento non ha potere in sé e per sé. Il suo potere deriva dal fatto che lo accettate mentalmente. Dobbiamo essere coscienti del fatto che possiamo completare la frase io sono come vogliamo. Nessuno può controllare i nostri pensieri, nemmeno sotto tortura. Siamo liberi di credere e pensare a quello che vogliamo ma il bello sta nel fatto che ciò in cui crediamo finisce per determinare largamente il nostro futuro. Non date a nessuno il potere di distogliervi dalla vostra meta, il vostro scopo nella vita che è quello di esprimere i vostri talenti nascosti al mondo, di servire l'umanità e di rivelare sempre più la saggezza, la verità e la beatitudine di Dio a tutte le persone del mondo. Rimanete fedeli al vostro ideale. Sappiate che qualsiasi cosa contribuisca alla vostra pace, felicità e realizzazione deve necessariamente benedire tutte le persone che camminano sulla terra. L'armonia di una parte è l'armonia del tutto perché il tutto appartiene a questa parte e la parte è nel tutto. Tutto ciò che dovete augurare all'altro è amore e l'amore è il compimento della legge della salute, della felicità e della pace dello spirito. Bisogna accettare gli altri, bisogna accettare se stessi e cercare di creare armonia ovunque e vivere in armonia. Attraverso questo approccio qualsiasi cosa è possibile. Questa era la spiegazione del concetto della credenza nelle opere di Murphy. Si tratta di spunti che aiutano a sviluppare nuove aspettative riguardo il futuro e il nostro vero potenziale. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!